Il Brindisi continua la fase di riorganizzazione con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo, posto rimasto vacante dopo le dimissioni di Nicola Dionisio. Sarà Renato Voglino a ricoprire questo ruolo, ex calciatore, agente e osservatore. Già in città intanto, dalla giornata di ieri, un esperto centrocampista classe 91, Fabio Meduri, che resterà in prova fino alla giornata di giovedì. Oltre a lui, in prova anche il 33enne brasiliano Ugo De Marchi. Il Brindisi è anche alla ricerca di un attaccante e di un altro difensore. Intanto, questo pomeriggio, è prevista la conferenza di presentazione di Renato Voglino. Mentre, nella trasmissione Passione Brindisi, andata in onda su Antenna Sud 85, ha parlato il neosocio biancazzurro Daniele Arrigliano. Bisogna, come ho detto già in passato, riacquisire il consenso popolare. Chiaramente, questo ne va prima dalle sorti sportive, bisogna fare un pochino di risultati e poi bisogna che la società si confronti con tutte le persone nelle quali, in un lasso di tempo medio-breve, ha delle situazioni cosiddette appese e sistemarle. Quindi, bisogna essere regolari, dare anche stabilità ai dipendenti stessi. Io li chiamo dipendenti perché effettivamente sono dei dipendenti del Brindisi Calcio. Anche se qualcuno li può definire dei calciatori, lo fanno per mestiere. Quindi, sono dei dipendenti a tutti gli effetti e appunto da là gettare le basi per poi pensare a qualcosa di futuro. Anche la questione del campo sportivo, del manto erboso del Fanuzzi. Adesso stiamo approfittando di questi 20 giorni di pausa perché domenica prossima, ovvero fra 5 giorni, dovremmo andare a Portici, che è un po' alle prese con il Covid. Poi ricomincia il girone di ritorno e siamo ospiti del Gravina e quindi andremo a giocare di nuovo nuovamente in casa il 28 di febbraio, insomma verso la fine di febbraio. Questo ci sta permettendo appunto fra domani e dopodomani di iniziare dei lavori di manutenzione del manto erboso.